Gentili telespettatori, buona giornata. L'allarme di Repubblica. Anche a sinistra qualcuno potrebbe votare vannacci. Allora, io vi dico una cosa. Quando scese in campo Berlusconi nel 1994, poi vinse le elezioni, io ricordo perfettamente che chiedevo in giro chi avesse votato Berlusconi. Non c'era una sola persona che mi diceva di averlo votato. Eppure lui aveva avuto tantissimi voti. La maggioranza in Italia era del suo partito, Forza Italia. Ma nessuno diceva apertamente di averlo votato, perché si vergognavano. Si vergognavano. Ha detto Berlusconi, no io, ma va, ma cosa dici, ma stai scherzando. Ecco, poi lo votavano di nascosto. Forse oggi anche tanti, come dice la Repubblica, probabilmente ha ragione, tanti voteranno vannacci senza dirlo. Perché oggi dire di votare vannacci ti additano come un razzista. Se tu voti vannacci sei un razzista. Quindi molti voteranno vannacci, come ai tempi votarono Berlusconi, di nascosto, senza dirlo, esultando poi a casa da soli. Quindi quello che dice la Repubblica, attenzione che a sinistra qualcuno potrebbe anche votare vannacci, non è propriamente una sciocchezza. Anzi, vannacci potrebbe sfondare proprio a sinistra. Perché io ho conosciuto tante persone di sinistra e mi sono accorto che in tanti, in tante, tra queste persone di sinistra, pubblicamente dicevano una cosa. Porte aperte, facciamo entrare tutti i clandestini del mondo, poverini. Questo è un esempio. Poi quello che dicevano in famiglia era completamente l'opposto. Però era in famiglia, doveva stare in famiglia, fuori avevano una versione diversa, che serviva per stare in società. I buonisti, fare i buoni, i finti buoni. Ecco. Quindi è anche probabile che succeda così, che tanti la pensino come vannacci, però non lo dicono perché si vergognano di essere additati come dei razzisti. Chiaro, no? Bene. Infatti, Repubblica, nell'edizione napoletana, ha pubblicato un'analisi abbastanza interessante, sotto forma di lettera a me nella pagina dei commenti. Voi sapete che le lettere arrivate ai giornali spesso sono i giornali stessi che si scrivono queste lettere, perché sì, no? vuoi parlare di una cosa, dici che te l'ha scritto qualcuno. Eh, mi hanno scritto, mi hanno detto che... chi te l'ha detto? Ah, no, me l'hanno detto. Bene. E così, il consenso da sinistra verso la lega di Salvini e vannacci. Una prova del mondo al contrario, potremmo dire, proprio il mondo al contrario. L'autore afferma che è comprensibile l'accanimento, così lo definisce in gran parte della classe dirigente, anche qui, una distinzione col popolo, col centro-sinistra contro le posizioni espresse da vannacci. Ecco, secondo proprio la Repubblica, in questo articolo, eccetera, eccetera, dicono proprio così, fra qualche settimana la valanga di voti, di cui egli e il partito di Salvini beneficeranno. Hanno scritto proprio così, la valanga di voti. E così, in questa lettera, che poi se è vera o falsa chi lo sa, c'è scritto Vannacci interroga la sinistra. Per esempio, in questa lettera dice, sono iscritto al Partito Democratico, chissà se poi è vera questa lettera, secondo me sono tutte lettere finte, però. E questo che scrive la lettera dice, sono iscritto al PD, ho sempre votato e militato nella parte sinistra dello schieramento politico e continuerò a farlo. E proprio per questo, anzi, soprattutto per questo, provo a ragionare sul perché tanta gente che incontro per strada, potenzialmente nostri elettori, voteranno per Vannacci. Dice, è troppo facile liquidare la questione definendo le sue idee come una banale somma di battute da bar dello sport. E questa è la sensazione che ho avuto anch'io leggendo il suo libro. Ma il consenso di cui godono molti concetti in esso rappresentati si fonda, a mio avviso, su esigenze reali del Paese, che il mio partito e in generale la sinistra fanno fatica ad intercettare. Sono anni che temi quali la patria e la sicurezza dei cittadini sono stati delegati alla propaganda della destra, in modo assolutamente suicida e dimenticando che anche sul piano ideologico il Partito Comunista Italiano, una delle colonne storiche fondatrici del Partito Democratico, aveva una politica chiaramente nazionale e anche in tema di sicurezza. Al netto degli estremisti di alcune frange movimentiste aveva le idee molto chiare. Quindi in questa fantomatica lettera di questo elettore del PD che dice tanti di sinistra voteranno vannacci perché anche noi parlavamo di sicurezza tanti anni fa. Anche noi parlavamo di patria tanti anni fa. Non c'era bisogno di sentirsela raccontare la sicurezza e la patria della destra. La raccontavamo anche a sinistra. E quella gente che non trova più il racconto di patria, di unione sociale, allora di sicurezza, quella gente dice vabbè io per la società sono uno di sinistra e continuerò a dire che sono di sinistra, però nella scheda elettorale metto Roberto Vannacci. È detto il generale. Perché magari lui risolleva queste cose. Quindi pubblicamente il PD è un grande partito, non voterò mai la destra, ma nell'urna Roberto Vannacci. Chissà se la lettera del compagno Perna che scrive sulla Repubblica, chissà se esiste questo compagno Perna, l'avrà letta Elislein. Però Elislein vede il PD e la sinistra tutto a suo modo, una specie di centro sociale. Non puoi far esaltare patria e sicurezza da un centro sociale. Loro hanno come nemici la polizia nei centri sociali, bisogna lasciarli lì alle loro cose. E così sul Libero Quotidiano dicono chissà se Elislein o se avranno fatto leggere a Elislein la lettera del compagno Perna. E così il passaparola in favore di Vannacci è cominciato. Una volta era De Luca, o sceriffo, che intercettava un consenso proprio da sceriffo. Oggi c'è Vannacci che è molto più di uno sceriffo, è un generale di corpo d'armata, che dice, come dice l'autore, potenzialmente sembrano delle banalità, ma sono quelle potenziali banalità che raccontano di un mondo che oggi viene difeso solo dalla destra, perché la sinistra ormai se ne è completamente disinteressata. Grazie a tutti e arrivederci a presto.